Buongiorno amigli, buongiorno amigli. Oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito, un video un po' di costume, di televisione, sempre inerente al calcio ovviamente, dicendovi due tra le realtà della narrazione calcistica che il sottoscritto apprezza e che vi consiglia. In questo mare magnum di televisioni che tentano di inseguire i social non riuscendoci o peggio prendendo i lati più deleteri, ovvero l'essere schiavi del feed di notizie, delle puttanate che però fanno like, che fanno visualizzazioni, spesso a discapito della qualità della narrazione, della capacità di anche comprendere i mutamenti, di anticipare i mutamenti del calcio. Spesso viviamo una televisione troppo fissa sul presente, troppo schiava talvolta delle esigenze del marketing, basti vedere quanto caspita, per usare una parola edibile, quanto caspita si parli di Cristiano Ronaldo che ormai ci esce praticamente da ogni parte. Invece ci sono delle realtà televisive sportive che danno più spazio a dei contenuti apprezzabili, che parlano bene, che parlano bene di calcio, che ti fanno apprezzare la materia affrontata senza tutto questo storytelling da teenager, diciamo per usare dei termini fighi, e che possono piacere ad un pubblico raffinato e calcisticamente esigente come il nostro. Allora, il primo è il gruppo, diciamo, di Sport Italia e tutto mercato web. A me piacciono perché apprezzo molto Criscitiello, che è un giornalista un po' british, che ha il pregio per me di dire sempre quello che pensa, senza filtri, senza peli sulla lingua, e questo è un grande merito perché viviamo in una epoca nella quale si è ormai schiavi spesso del politically correct, dell'esigenza di non toccare equilibri, del farsi sempre piacere da tutti. Quante volte nelle trasmissioni sportive vediamo invitati degli allenatori che o per loro inclinazione personale o per sovrastruttura non parlano mai male di un allenatore, mai male di una società, mai male di una squadra e ti ritrovi sempre a commentare il caso. Cioè questa stagione è andata male, è perché succede, è perché è il caso, è però sono sicuro che l'anno prossimo andrà meglio. Cioè questa non è critica, questa è un'ospitata, capito? Però gratta gratta, cosa ti resta poi alla fine? Invece Criscitiello è un giornalista che affronta il calcio come piace a me. Poi ad alcuni può stare antipatico, per carità, è anche questione di simpatia e di gusti, ma a me piace. Infatti leggo sempre il suo editoriale, quello che esce alla mezzanotte della domenica, me lo leggo sempre volentieri. Apprezzo Pedulla, che è un bravo esperto di mercato, una persona posata, seria. Apprezzo il fatto che in Sport Italia e in tutto mercato web si dia il giusto spazio un po' a tutte le squadre, a tutte le squadre. Si parla dei campionati primavera, si parla della serie C, si parla tanto di serie B, si cerca di parlare un po' di tutti, si dà il giusto spazio a tutti, spesso le redazioni e i programmi sono briosi, sono giovani, si fanno seguire con competenza e serietà senza divagare nel pecoreccio, come piace dire a me, nel pecogreccio inutile, che poi stanca, che poi stroppia, in cui si mescolano 30 cose, gossip, calcio, marketing, col risultato che poi in molte trasmissioni si finisce col non parlare di nessuna delle due o tre cose. Quindi apprezzo molto questo nuovo, nuovo per certi versi, network calcistico sportivo chiamato Sport Italia. Se devo scegliere una trasmissione, una rete nella quale informarmi e anche un sito nel quale informarmi, scelgo quelli afferenti a questo tipo di gruppo, lo apprezzo. Quindi lo apprezzo e ve lo consiglio, vi consiglio Criscitiello, vi consiglio Pedulla, vi consiglio Sport Italia, tutto mercato, tutto quel gruppo lì mi piace. Un'altra trasmissione che apprezzo molto di nicchia, ma un bijou della domenica sera, non so se anche voi la guardate, io praticamente sempre, è l'altra DS, cioè è quella trasmissione che va in onda dopo la DS classica, che la DS classica si sofferma un po' più sui temi sull'onda delle cronache. L'altra DS invece è condotta dal buon Marco Lollobrigida e vede la presenza di quel nostrissimo Dieraldo Pecci, vede Marocchino, vede anche un altro giornalista molto bravo che è Fulvio Zara e degli ospiti spesso variabili, insomma spesso l'altra domenica c'era Torricelli, a volte vengono degli ex giocatori su questa falsariga qui, però è proprio un luogo, una sorta di pub del calcio, molto serale, molto anche divertente con Giampiero Galeazzi in collegamento. Si parla di calcio in maniera per me divertente, in maniera simpatica, col sorriso sulla bocca, ma con competenza, è una trasmissione che si fa guardare, Eraldo Pecci è uno che per me di calcio ne capisce molto, ne capisce molto anche Marocchino, si dà uno sguardo generale un po' su tutta la Serie A, sui temi della Champions, sul mercato, si fanno anche collegamenti con le redazioni che stanno lavorando ai pezzi per il lunedì, è veramente una trasmissione che apprezzo, l'apprezzo anche più della DS vera e propria per certi versi perché è più ubriosa, è più amichevole, più amicale, più nostra e ve la consiglio, e ve la consiglio, non mi spiacerebbe vederla anche in prima serata, magari l'anno prossimo, anche come conduzione, come modo di interpretare il calcio e anche per la qualità degli ospiti, per esempio prima che andasse ad allenare il Venezia c'era ospite fisso Cersei Cosmi, per esempio, ecco queste sono due realtà realtà della cronaca sportiva, della discussione calcistica e del parlare di calcio che apprezzo molto rispetto a tanti altri contenitori alla moda, tanti altri contenitori di cui si parla sempre, di tanti telecronisti alla page, di tanti presentatori sulla breccia, ecco invece queste due realtà qui, ovvero Sport Italia barra Tutto Mercato Web, Criscittiello Pedulla e l'altra DS con Lollobrigida, Pecci, Marocchino e Zara, sono due realtà che mi piacciono e vi consiglio se foste interessati a capire, a sapere quali sono le mie trasmissioni calcistiche preferite. Un caro saluto, ditemi cosa ne pensate e ci vediamo presto.